Riprendiamo la giostra con lo stesso spirito che avevamo prima, lo spirito della giostra. Tutto è andato bene, qualcuno ha avuto un po' di paura, pazienza. Diamo il tempo all'organizzazione di sistemare il seracino nuovamente più giù. E poi ripartiamo con la giostra. Mi raccomando, dietro le transenne del suono. Grazie. Alla bambina poi, la grande potrà dire, io c'ero. Come è successo per me in un'altra occasione.